E' difficile prendere i soldi e spostarli. Fa più paura il rimorso di aver fatto un cattivo investimento o il rimpianto di non averlo fatto. Queste cose anche sono da conoscere, oltre a sapere razionalmente come è meglio investire i propri soldi. 250 studenti aretini a lezione di cittadinanza economica ed uso consapevole del denaro. Nel mese di ottobre sono infatti giornate anche ad Arezzo le giornate dell'educazione finanziaria. Gli spiegheremo che i soldi sono uno strumento che loro già gestiscono, non sempre lo fanno in maniera perfettamente consapevole. E quindi gli faremo vedere quando e in che modo delle volte pensiamo di essere razionali nelle scelte legate al denaro e non lo siamo. L'evento, ospitato alla Borsa Merci, fa parte del vasto programma che la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, in collaborazione con UbiBanca, mette a disposizione delle scuole a livello regionale. E' assolutamente importante per una banca come UbiBanca, che è molto attento alle istanze dei territori, dare qualcosa in più a questi giovani, quindi a crescere il loro livello di competenze, a crescere le loro esperienze nell'ambito appunto strettamente finanziario, affinché possano essere cittadini consapevoli e fare un uso molto attento del denaro che può diventare merce assolutamente pericolosa. L'obiettivo è dunque quello di diffondere cultura di cittadinanza economica tra i giovani, competenza indispensabile per affrontare il complesso scenario socio-economico in cui ci muoviamo. Ci stupisce molto vedere come abbiano sicuramente evoluto le competenze in ambito di transazioni di monetica collegate agli smartphone, agli iPad e a tutto quello che sono gli strumenti di acquisto in remoto. Ma manca ancora quella consapevolezza che riguarda magari la pianificazione di medio e lungo periodo, riguarda l'ambito previdenziale, riguarda anche la capacità magari di saper mettere in connessione le entrate con le uscite.